Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. In questo video ho scelto di usare questo microfono perché voglio che l'audio sia assolutamente perfetto, perché dobbiamo fare un esercizio insieme, un esercizio molto importante sulla differenza tra indicativo presente e congiuntivo presente. Allora, l'esercizio che faremo è questo qui e voi potete trovare questo file su internet, quindi io vi lascio il link a questo esercizio nella descrizione del video qui sotto. Lo scopo dell'esercizio è quello di completare le frasi nel modo corretto e dobbiamo scegliere se coniugare il verbo tra parentesi al presente dell'indicativo o al presente del congiuntivo. Allora, brevemente, quando utilizziamo l'indicativo? Quando la frase indica una certezza oppure un fatto certo, appunto. Quindi, sia una sicurezza del parlante, sia un fatto obiettivamente certo. Mentre usiamo il congiuntivo quando c'è dubbio, incertezza, un sentimento, una volontà, un desiderio, eccetera. Allora, nel primo esempio, la professoressa pensa che gli studenti mh impegnarsi di più. Qui è molto chiaro che dobbiamo usare il congiuntivo perché c'è il verbo pensare. Pensare vuole poi il congiuntivo quando si tratta di un'opinione personale. Il fatto che gli studenti debbano impegnarsi di più è l'opinione della professoressa. Quindi, la professoressa pensa che gli studenti debbano impegnarsi di più. Frase numero due. Immagino che voi mh soddisfatti dei vostri risultati. Immagino, anche qui, immagino che esprime una idea, un'opinione di chi parla. Io immagino questo, non ne sono sicura, quindi dobbiamo utilizzare anche qui il congiuntivo. Immagino che voi siate soddisfatti dei vostri risultati. Frase numero tre. È probabile che domani mh indica una probabilità, quindi non una certezza. Perciò dobbiamo utilizzare il congiuntivo. È probabile che domani nevichi. Frase numero quattro. Sono sicuro che lui mh presente alla manifestazione. Qui sono sicuro che c'è una certezza di chi parla, quindi sono sicuro che lui è presente alla manifestazione. numero cinque. È importante che loro non mh in ritardo alla stazione. Quando abbiamo la struttura verboessere più aggettivo più che, dobbiamo usare il congiuntivo. è importante che loro non arrivino in ritardo alla lezione. È importante che loro non arrivino in ritardo alla lezione. Frase numero sei. Siamo certi che voi, questo l'abbiamo visto prima, siamo certi è come siamo sicuri che. Quindi siamo certi esprime certezza. Siamo certi che voi fate bene il vostro lavoro. Frase numero sette. Roberto teme che tutti lo mh in giro. Temere. Temere che esprime il fatto di avere paura. Perciò dobbiamo utilizzare il congiuntivo e quindi dobbiamo dire. Roberto teme che tutti lo prendano in giro. Poi numero otto. Qui abbiamo il verbo sapere. So che loro mh ragione. Il verbo sapere esprime certezza e quindi dobbiamo usare l'indicativo. Perciò so che loro hanno ragione. Numero nove. Ho l'impressione che tu mh restare da solo. Ho l'impressione che significa mi sembra che e quindi esprime un'opinione. Ho un'impressione personale, perciò ho l'impressione che tu voglia restare da solo. Numero dieci. Giovanni è contento che la sua fidanzata gli mh tutti i giorni. Abbiamo detto che Giovanni è contento che succeda questo. Perciò telefoni. Va bene? So this was an easy exercise but I really wanted to film this video just to give you an idea that using the subjunctive in everyday conversation is easier than you think or easier than some people might tell you. because the subjunctive mood is very used in conversation despite what many people say. I will never stress enough the importance of studying subjunctive and this is a very good starting point. It's very easy to memorize these things and then the more you use these verbs and these structures, the more you will get used to them, the more you will recognize similar verbs and similar structures in books, texts, TV shows, songs. Quindi spero che questo video vi sia utile e ovviamente se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. Allora, grazie mille per aver guardato questo video. ci vediamo nel prossimo, a presto, ciao! Ciao!